Un ragazzino vessato dai bulli pronto a diventare una leggenda del football americano. Sono il vostro amico Akumetsu, questo è AnimeManga.it in pillole e oggi vi parliamo di High Shield 21 di Rishiro Inagaki e Yusuke Murata. Appena entrato alle superiori, Sena Kobayakawa viene assalito da due curiosi individui, Iruma e Kurita, in cerca di adepti per il club di football. Quando poi Iruma lo vede fuggire dai bulli ad una velocità strabiliante, decide che deve entrare nella squadra. Inizia così, sotto ricatto, l'avventura di Sena nei Daemon Devil Buds sotto il leggendario nome di High Shield 21. Pubblicata dal 2002 al 2007 su Shonen Jump, la serie è stata raccolta in 37 tankobon portati in Italia nel 2008 da Planet Manga, che oggi ce la ripropone nella corposa Complete Edition in 13 volumi. Ogni volume 3 in 1 mostra due cover sul fronte e retro della sovraccoperta lucida e la terza stampata all'interno. Dimensioni standard, ad eccezione ovviamente dello spessore un po' eccessivo, pagine buone che non sporcano e rilegatura solide caratterizzano questa nuova edizione alla cifra di 14,90€. High Shield 21 è uno degli Spokon più belli che abbia mai eletto, presentando un mix perfetto di sport, determinazione, amicizia, rivalità e tanto altro. La caratterizzazione dei personaggi e la loro crescita è perfetta, partendo dal protagonista che da timoroso ragazzino diventa un vero atleta e che corre per la sua squadra a tutti gli altri personaggi, compagni e rivali, ognuno con i suoi ideali, la sua storia, le sue motivazioni e ambizioni. Con una narrazione avvincente e un ritmo serrato, Rishiro e Nagaki ci raccontano una storia ricca di insegnamenti e spunti di riflessione. Tutto è poi narrato attraverso gli eccezionali disegni del grandissimo Yusuke Murata, con il suo tratto fresco, preciso, pulito ed estremamente dinamico, che riesce ad avvincere e coinvolgere i lettori. Squadra, amicizia, amore e sacrificio, questi sono i valori di un vero atleta, i valori di chi porta il titolo di High Shield 21, una serie che ha tutto per piacere, che voi siate appassionati o meno di football americano. Ovviamente per ulteriori approfondimenti trovate in descrizione il link alla recensione completa e altre informazioni utili. Dal vostro amico Alcumazzo è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima pillola. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS